Sai cos'è l'effetto dama cavaliere? Quante volte nella comunicazione entriamo a gamba tesa, entriamo con le nostre idee, con i nostri valori, con i nostri pensieri e la persona si sente quasi invasa. Sai cosa ti consiglio? Quando tu vai a casa di qualcuno se sei educato chiedi il permesso. Cosa significa dama cavaliere? Quando io comunico con te prima ti ascolto, ascolto le tue idee, ti accolgo, faccio la dama, la dama cosa fa? La dama è con lei che si lascia guidare e si lascia come dire portare dal suo cavaliere, accoglie il cavaliere, segue il cavaliere. Quindi nella comunicazione appena entro in contatto con te, cosa faccio? Lascio che sia tu a guidare, lascio che sia tu a fare il cavaliere. Solo in seconda battuta, quando tu ti sei sentito accolto, compreso, capito, ascoltato, sicuramente sarai molto più disposto ad accogliermi, capirmi ed ascoltarmi. Quindi una volta che ti ho permesso di essere cavaliere e ho fatto la dama, tu potrai a tua volta permettermi di essere a mia volta cavaliere. E quindi c'è questa sorta di interscambio bello, dove accolgo e mi sento accolto. Invece noi spesso siamo invasivi, intrusivi e arriviamo veramente, come ho detto all'inizio, a gamba tesa. Quante volte ti è successo di voler imporre senza rendertene conto il tuo punto di vista e di creare così dall'altra parte un muro o alimentare il muro che poteva esserci all'inizio? Che ne pensi? Ti aspetto a una serata in cui ti spiegherò tante, tante strategie utilissime nella comunicazione. Ciao, 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 ciao.